Musica Una bellissima Kermess giunta alla quinta edizione si è svolta davanti alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Matera. Il premio Moda Città dei Sassi ha portato in passerella le creazioni di stilisti emergenti valutati da una giuria di esperti del settore e giornalisti. Crocevia della Haute Couture internazionale, il premio Città dei Sassi è un concorso di moda che richiama a Matera stilisti provenienti da tutta Italia e Europa. Giunto alla quinta edizione anche quest'anno la Kermess che ha avuto come scenografia la facciata barocca della chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi ha portato in passerella le creazioni di stilisti emergenti valutate da una giuria di esperti del settore e giornalisti. Chicche di design per veri intenditori, un'esplosione di colori e lustrini, abiti che hanno fatto sognare i numerosi spettatori presenti a Matera. 8 i concorrenti in gara, uno straniero, Leon Classe & Boss e 7 italiani. Filippo Grandulli, Luca Tommasoli, Anna Pulpito, Valentina Caramia di La Terza, vincitrice del premio speciale Rendezvous, Marco Calandra, Brigida Lorusso di Altamura, vincitrice del premio della critica e Giuseppe Durso che ha vinto la quinta edizione della manifestazione organizzata da Publi Music. A rappresentare l'alta moda italiana con un flash moda delle loro collezioni sono arrivate anche le prestigiose case di Sarli, Gianni Calignano, Michele Miglionico, Franco Ciambella, mentre lo stilista Paolo Fumaruro ha messo in scena il mondo della sposa. Gli stilisti Roberto Guarducci ed Armando Terribili hanno omaggiato con le loro creazioni l'indimenticabile attrice Audrey Hepburn. Un'eleganza romantica e lieve, efficace per far conoscere culture diverse e per valorizzare e salvaguardare la qualità di un made in Italy unico nel mondo. Gli stilisti Roberto Guarducci ed Armando Terribili hanno omaggiato con le loro creazioni di un mondo.